Ancora una volta entrambe le squadre padovane di Serie B non riescono a trovare la prima vittoria stagionale. In attesa del verdetto del giudice sulla partita con il Carpi, il Padova rimedia la terza sconfitta e si vede così relegato in solitaria all'ultimo posto della classifica, per di più permanendo ancora a quota zero nel conteggio delle reti segnate. Aumentano invece i penalty fischiati a sfavore, e infatti ancora una volta i biancoscudati sono condannati alla sconfitta anche per un rigore dubbio concesso a inizio della ripresa dall'arbitro, in seguito a un contatto in aria tra Santa Croce e Lazzari. L'ennesimo tiro dal dischetto subito non va giù alla dirigenza veneta, tanto da trincerare allenatore e giocatori in un silenzio stampa che durerà fino a domani. I ragazzi mi hanno chiesto insieme all'allenatore di non parlare, di stare concentrati, forse è anche un modo silenzioso di farsi sentire presso le sedi istituzionali. Detto questo, se ogni partita si inizia con un rigore contro diventa difficile portare a casa il risultato, non voglio nascondere, diventa ancora più difficile senziché buttarla dentro e si prende il palo. Con il Lattina rinvigorito dal cambio di allenatore, il Cittadella conquista un altro punto che smuove la classifica e lo fa con una prestazione poco convincente, rischiando addirittura il secondo K.O. del campionato. A salvare i Granata sono le parate del difensore estremo Di Gennaro, che a più riprese nega agli avversari la gioia del gol. Di Gennaro sta diventando, noi siamo contenti, un punto di riferimento importante, però credo che sia sollecitato troppo e quando potrebbe essere sollecitato troppo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Purtroppo, soprattutto nella seconda parte, abbiamo subito e non abbiamo creato. A volte magari ci può anche stare che magari per rischiare di vincere crei delle occasioni importanti e subisci, invece al secondo tempo non abbiamo concretizzato, non abbiamo impensierito, non siamo stati propositivi e abbiamo subito. In Lega Pro, prima divisione, il Venezia rimedia una sconfitta per 2-1 con l'Entella, mentre il Vicenza approfitta della superiorità numerica e vince con la Cararese per 2-0.